Ok, benvenuto a Filippo, Filippo Salis, che è CEO e founder di Sfray. Sfray è una realtà molto importante italiana, ma anche internazionale, ma adesso ci introduce al mondo di Sfray Filippo, che intanto ringrazio per la sua presenza e ci spiega di cosa si occupa e di cosa progettate con Sfray. Sì, grazie Andrea dell'invito. Sfray è una società di project e construction management nata nel 2016, dopo un'avventura del sottoscritto abbastanza itinerante e internazionale nel mondo della logistica, in generale un po' in tutto il mondo. Nel 2016 abbiamo deciso, insieme a due altri soci, di fondare Sfray e abbiamo appunto messo in pista questa bella realtà, che è una realtà appunto composta da circa 80 persone, tra ingegneri, architetti e geometri. Sfray siamo presenti a Milano in due uffici, un operativo diciamo un altro direzionale e siamo presenti anche a Bologna e a Roma. Ci occupiamo prevalentemente di edifici, come si vede anche dal video che stiamo proiettando, edifici legati al mondo della logistica, che è un po' l'asset class oggi diciamo nel real estate, più importante nel periodo della pandemia, è stato quello più in assoluto, più importante e ancora lo è. Giustamente. Entro nel vivo del tema della Bing Conference, che è un tema un po' se vogliamo filosofico, però è giusto per introdurre anche una discussione. Il tema di questa Bing Conference è la metamorfosi. Riprendendo un nostro vecchio argomento, ci si pone una domanda sostanziale, nel senso in cui sono le nuove tecnologie in grado di cambiare il nostro modo di fare e progettare, pensare all'architettura, pensare all'ingegneria, intervenendo anche nel gesto euristico, cioè nell'idea, o sono solo strumenti di rappresentazione e di controllo di un'idea ben precisa? Non so se sono stocchiato. Chiarissimo, chiarissimo. Ti dico che assolutamente è lo scenario 1 che hai rappresentato, cioè attraverso una tecnologia innovativa che io riesco a espandermi di più. Cioè è un qualcosa che va di pari passo. Non è semplicemente una mera rappresentazione, non è semplicemente un rappresentare graficamente. Adesso per esempio i video che stanno andando avanti, chiaro, quando abbiamo anche dei video di carattere commerciale, è chiaro che puntiamo sempre al mondo del 3D, ma è molto di più. Noi con il BIM, con questa nuova attitudine che abbiamo voluto dare, abbiamo veramente scalato un po' un modo di lavorare completamente diverso, anche con concetti completamente nuovi, anche verso i clienti. Dallo stesso concetto del BIM2Suite che ci è piaciuto noi nel mondo del real estate, parliamo sempre di BILD2Suite. A me invece è piaciuto molto fare il BIM2Suite, cioè vestire anche, in base alle esigenze del cliente, il BIM più adatto per il cliente, perché non tutti i BIM chiaramente devono essere uguali. Alcune cose possono essere interessanti, per esempio, per la logistica, altrimenti per gli uffici, insomma, quindi vanno sempre poi, insomma, vestiti appunto nel modo giusto. Quindi concordo con te sulla prima parte, chiaramente, della definizione che hai dato che trovo assolutamente pertinente. Infatti leggo dal suo sito, Sfrey offre un BIM2Suite, cioè la realizzazione di un modello bisnello, efficiente ed efficace agli scopi e agli obiettivi per gestire la committenza. Quindi ovviamente fate dei BEP, dei capitolati informativi in grado di assoggettare, diciamo, la vostra idea progettuale proprio anche all'esigenza della committenza, cioè di allinearvi senza sprecare. Sappiamo benissimo che il BIM, siamo passati da una fase in cui si modellava tutto, si richiedeva tutto, invece è una fase in cui bisogna essere estremamente operativi ed essere ovviamente concreti. Penso che questa tua definizione calzi a pennello con quello che tu hai detto, quindi creare, avere un team di persone che creano proprio un BIM fatto ad hoc per la logistica. Infatti abbiamo voluto volontariamente portarvi questa testimonianza proprio perché siete in un settore abbastanza in diffusione, però è un settore in espansione, ma è un settore magari non conosciuto, per cui anche qui il BIM a livello ingegneristico è sicuramente un fattore determinante. La domanda invece che ti faccio adesso è il construction management che ho visto sempre, ho preso sempre dal tuo sito, per cui ci vuoi parlare di come lo intendete voi e come poi si cala nella realtà del BIM. Sì, allora diciamo che il construction management anche qua il BIM ci ha dato una grandissima mano, ci ha dato veramente il nostro modo chiaramente poi di ripensare il BIM, che poi ne do un'altra definizione, io prima l'ho chiamato BIM2Suite adesso, quando caliamo sulla construction è BIM concrete, cioè nel senso che giochiamo sul termine del cemento, però c'è sulla concretezza reale del BIM, cioè il BIM è quello che noi abbiamo visto negli anni, soprattutto nei primi anni di cui se ne parlava, insomma era fondamentalmente basato molte volte su concetti anche di fuochi d'artificio, cioè di cosa poteva fare, però poi dopo in realtà non nel senso si potrebbe far questo, ma insomma erano piccoli esempi. Ecco, costruzioni del genere che nella loro diciamo tra virgolette semplicità, perché è vero un magazzino di logistica è molto modulare e molto semplice, però ha uno svantaggio, cioè la velocità, i fondi immobiliari lo chiedono molto veloce, quindi i margini d'errore in costruzione devono essere limitati veramente al minor possibile, cioè diciamo chiaro il rischio zero lo sappiamo tutti, non c'è, ma affinché il rischio sia il più basso possibile ho bisogno proprio della construction management fatta col BIM, quindi il mio modello deve essere sempre presente in cantiere per verificare effettivamente che quello che sto costruendo è esattamente quello che comunque è riportato nel digitale, nel modello che poi lo accompagna. Class detection, insomma tutto quello che insomma sono le potenzialità le abbiamo prese tutte, però le abbiamo proprio uniformate, portate a un livello alto affinché quel margine d'errore si abbassasse sempre di più. Vero, facendo logistica come si vede anche dal video è tutto molto modulare, molto maglie, molto regolari, chiaro, però insomma la velocità è elevata di costruzione. Sappiamo che c'è una grande complessità in queste costruzioni, il fattore tempo diventa determinante, infatti avete messo in piedi, avete anche strutturato il CDE di Autodesk, il Common Data Environment, proprio per riuscire a coordinare completamente tutta la filiera. Io so che i clienti, quindi si sta allineando la filiera progettuale al BIM, quindi ottimizzando quelli che sono, come hai detto tu, i presupposti del BIM. Si pensava che il BIM risolvesse tutto, in realtà bisognava risolvere insieme al BIM tante problematiche che ci sono sempre state nel cantiere, quindi la filiera vi sta seguendo in questo. Io so che voi siete anche dei concorsori in questo. Sì, la filiera ci sta seguendo tantissimo, per esempio su un aspetto che era basato sul 7D, però solamente diciamo che Sfra è andata un po' a ritroso, cioè cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tanto 3D, come si vede anche, ma siamo partiti dal 7D, cioè dalla settima dimensione del BIM, cioè curando molto l'aspetto soprattutto del life cycle cost, dell'LCA, del facility management, del property management, le schede di manutenzione, la documentazione tecnica di consegna, il data room collegato al BIM 360 che attraverso appunto palmare o attraverso anche dello stesso cellulare funziona assolutamente in maniera perfetta e greggia e quindi avere sempre e costantemente il dato preciso. Cosa che avevo fatto prima? Ora che mi ricordo, anche con il nostro supporto, c'è stato tra i primi, parecchi anni fa, quindi tre o quattro anni fa, ad investire proprio in questa parte di facility management, cioè di controllo del 7D del dato, oltre la fase di manutenzione, quindi dalla spilt, dal cantiere in poi, siete stati precursori. Sì, infatti noi siamo andati sul 7D per poi dopo scalare pian pianino e andare un po' a ritroso, perché in alcuni cantieri, devo dire la verità, l'abbiamo preso in corsa, quindi era un po' difficile, poi nei cantieri attuali usiamo tutte le dimensioni, siamo oramai in pista su tutte le dimensioni, però è una roba paradossale, nel senso che sono andato direttamente alla fine, perché il cliente, sì, è vero che può essere il general contractor, è vero che può essere il tenant, il conduttore, che quindi ha altre esigenze, ritorniamo al concetto del BIM2Suite che dicevo prima, ma soprattutto sono i fondi immobiliari che si aspettano dal BIM che il dato non venga mai perso. Diciamo che tra level of details, che abbiamo fatto capire bene, Andrea, anche grazie al vostro aiuto, rispetto invece al level of information, cioè quindi all'informazione, è diciamo che il level of information ha aumentato tantissimo, quella non la posso assolutamente perdere. Sul livello di dettaglio, cioè andare a modellare la coroncina della testina dello sprinkler non ha senso, cioè è un gioco, è un vezzo, lo voglio fare, lo faccio per carità, niente da dire, però innanzitutto sono giga che sono inutili, che sono in uno storage, cioè anche lì, per esempio quando parliamo di sostenibilità, i modelli BIM lo sappiamo, sono molto più pesanti, non è come il vecchio disegno DVG, quindi avere uno storage, noi lavoriamo tutto oramai in cloud, anche queste sono scelte che vanno fatte dal punto di vista aziendale, cioè io non posso consumare una montagna di energia perché sono riuscito a modellare la ghiera della testina sprinkler, che bastava semplicemente mettere un piccolo cilindretto e andava bene uguale, insomma. Cosa mi serve però dello sprinkler? Dello sprinkler mi servono tutte le informazioni dello sprinkler, cioè che è un K25, che è quella scheda lì, che la manutenzione bisogna farla in una certa maniera, quelle informazioni lì mi servono, quelle sì che sono importanti. e quindi questa è stata l'evoluzione. Hai parlato della prossima domanda, proprio vertendo su un tema fondamentale per voi, ma da quello che si vede anche in giro in generale, pandemia compresa, la sostenibilità, se ne parla sempre, si fanno grandi convegni, il concetto del 6D per se comunque è un concetto estremamente prioritario, ho visto, ed è proprio anche un concetto che si sposa benissimo con i tempi attuali. Vuoi approfondire un attimo di più? So che siete anche certificati lead, lead, quindi avete i vostri edifici. All'interno del team abbiamo dei ragazzi che hanno seguito tutti i corsi sulla lead e i nostri immobili nella maggior parte, diciamo, quasi sull'80% sono lead, che è appunto la certificazione sulla sostenibilità, diciamo, e l'environmental di matrice americana, partita dai fondi immobiliari americani che l'hanno richiesta. Poi c'è la Bream che è il suo, diciamo, omologo inglese, non è perfettamente proprio la stessa cosa, si differenzia leggermente, ma grazie al BIM, grazie alla dimensione 6D noi andiamo decisamente, decisamente più veloci. Non è che prima non si facesse il lead, si faceva anche prima, soltanto provate a immaginare la fatica di governare tutte quelle informazioni con un vecchio Excel o con, che per carità fa sempre la sua funzione, però il margine, ritorniamo al discorso del margine errore di prima, molto ampio e per un fondo immobiliare… E distributato, eccetera, assolutamente. Esattamente, ritorniamo sempre al solito discorso, cioè l'informazione, se perdono informazione, perdono informazione che è strategica, non me lo posso più permettere, ecco, quindi è stato di grandissimo, di grandissimo aiuto, quindi il 6D, diciamo, quella dimensione lì ci ha fatto correre ancora di più, ci ha fatto correre ancora di più. La domanda prossima, invece, è sulla vostra visione, la tua visione, la vostra disfrae del futuro. Abbiamo parlato di facility management, ho visto che fate anche l'antincendio, quindi prendere il modello BIM, magari per tutto quanto riguarda la simulazione, simulazione ovviamente antincendio, simulazione di via di fuga, simulazione di cantiere, come lo vedi il futuro del BIM, oltre ovviamente ad averci investito e quindi sapere che ti porta in una certa dimensione. Io lo vedo decisamente bene, lo vedo assolutamente strategico, lo vedo essenziale, difficilmente adesso noi siamo su alcune cose, siamo rimasti sui DVG, tanto per darvi l'idea, praticamente è quasi più nulla, penso che governeremo di documentazione il 4%, il 5% in DVG, ormai tutto l'applicativo di D-Revit che insomma ci ha dato questo balzano avanti incredibile e con tutti gli applicativi che poi si collegano. Lo vedo interessante, per esempio l'antincendio, l'antincendio è cambiato tantissimo, la modellazione che si doveva fare prima del fare i safety engineering si doveva costruire in 3D su AutoCAD, oggi provate a immaginare, noi abbiamo già un modello fatto, lo scarichiamo, gli diamo una certa impostazione per fare la modellazione del fare i safety engineering e ci impieghiamo un quarto del tempo di quello che ci si impiegava prima per fare il modello in 3D con AutoCAD. È cambiato tutto, nel senso è cambiato tutto, però perché, ma serviva anche un sacrificio di partenza, cioè per arrivare a quel quarto di tempo in meno l'abbiamo dovuta costruire. Dove vedo ancora dei margini? Io vedo tanti margini, devo essere sincero, sul patrimonio esistente, il patrimonio esistente degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, ci sta capitando di fare anche dei lavori di refurbishment, quindi sui mobili esistenti e anche lì stiamo avendo dei risultati fantastici. Uno dice, ma sai però, sai nuvola di punti, tutte queste cose qua, stiamo avendo dei risultati incredibili, sono veramente stracontento di questo, quindi vedo che anche secondo me il futuro potrebbe essere anche quello, quindi non sono le nuove costruzioni che l'ho mai lo do per assodato, insomma, che il BIM sia una condizione necessaria che ci deve assolutamente essere, ma sul costruito lo vedo non così difficile come l'avevano dipinto un po' di anni fa, cioè bimizzare, scusate questo termine che a volte ne abusiamo degli inglesi, ma bimizzare l'esistente, lo vedo secondo me come uno dei traguardi, è un processo di digitalizzazione e un paese come l'Italia, con tutto il suo patrimonio che ha, storico compreso, decidesse veramente di bimizzare anche il suo patrimonio storico, faremo un salto in avanti incredibile. Questo c'è secondo me una delle cose su cui veramente dovremmo puntare e essere scuola. Correggimi se sbaglio, ho visto pubblicato su LinkedIn forse una vostra iniziativa sul Duomo, mi sembra. Sì, abbiamo fatto un'iniziativa. Ne puoi parlare o sei sotto i diri come stessi? No, 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 ne posso parlare perché abbiamo firmato. È molto interessante quello. Abbiamo voluto mantenere, lo manteniamo negli anni, insomma, la veneranda fabbrica del Duomo di Milano, che a tutti gli effetti è sempre rimasto un cantiere, perché come potete immaginare ci sono costanti lavori da fare, da seguire. Ha un patrimonio cartaceo di disegni, appunto quando loro sostituiscono qualsiasi, anche la virgola, devono comunque segnare quando l'hanno sostituita, dove l'hanno sostituita, come l'hanno fatta. Quindi la carta sappiamo che ha un processo di deperimento e di ingiallimento che comunque crea dei problemi. Quindi questo materiale doveva essere tutto, insomma, digitalizzato. e noi non abbiamo fatto nient'altro che appoggiare questa iniziativa. È stata per noi veramente un grande onore, perché digitalizzare un patrimonio del genere è qualcosa di fantastico. Parlando di futuro... Perché rimarrà lì, cioè quello lì sicuramente, in un cloud ci saranno esattamente, perfettamente le ricostruzioni giuste e precise del Duomo di Milano, che comunque è un patrimonio, diciamo, nazionale, perché non è solo della città di Milano, di cui chiaramente... Esattamente. È un qualcosa di fantastico, insomma, abbiamo progetto questa idea. Chiaro, loro hanno tutta una serie di anni processi come digitalizzare, quindi non si sono messi poi dopo a fare un processo come facciamo noi per le nuove costruzioni, ma un pochettino è più delicata, la questione è più basata sulla grafica, proprio sulle tolleranze, anche su come poi verificano che effettivamente il disegno, che è un disegno magari anche di cento anni fa, che comunque io ho avuto la fortuna di vedere, sono spettacolari perché hanno un livello di precisione pazzesco, c'erano comunque, niente da dire, degli architetti dei geometri che disegnavano in una maniera super precisa. Quindi detto ciò, veramente, quello è un po' il futuro, quindi anche andando verso un patrimonio storico come il nostro che è incredibile. Se noi riuscissimo a bimizzare, ma anche dei palazzi dell'Ottocento bellissimi italiani o delle ville Liberty che magari sono sedi anche di aziende, sarebbe veramente un lavoro spettacolare. L'ultima, poi chiudiamo, siete in forte insprazione in questo periodo, sono stato assumendo e investendo anche nel BIM, quindi in personale pronto per essere BIM ready, come si dice. Cosa ti senti di consigliare a chi ci sta ascoltando? Avremo sicuramente una platea anche di giovani, di studenti, per essere pronte a nuove sfide. Ecco, sappiamo benissimo, ne parlavo anche con Roberto Vasta, il vostro BIM manager, si fa molta fatica a trovare del personale, ingegneri e architetti veramente preparati sulla parte del BIM. Sì, diciamo che secondo me la cosa che un po' si è un po' sbagliato, si è un po' negli anni, negli ultimi anni, si è provato un po' a dividere il ruolo del BIM manager. Il BIM manager chi è? È un project manager a tutti gli effetti che guarda chiaramente il costruito reale che va avanti e il progetto così come parte e allo stesso tempo ha un parallelo che deve assolutamente controllare e verificare che deve essere sempre più avanti di quello che stai costruendo. Questo diciamo, nell'estrema sintesi, è quello che io come definisco un BIM manager che controlla veramente al 100% il progetto. Si è fatta un po' di confusione come se il BIM manager dovesse guardare solo il digitale e quindi non andare magari in cantiere a verificare oppure parlare con il construction manager. Diciamo che noi in Sfren non facciamo troppo queste divisioni. Sì, abbiamo il team di Roberto che è molto presente, però per esempio Roberto è anche uno che va in cantiere a verificarsi il suo modello. Poi ci sono tutta una serie di BIM coordinator che vanno e li riportano e così via, ma lui ha molto piacere di fare questo. Quindi non vive in un mondo parallelo. Ecco, forse quello che abbiamo creato, Andrea, che non va bene, e lo dico proprio apertamente ai ragazzi che magari intendono finire i corsi di laurea. Non necessariamente, secondo me, lo dico proprio, non necessariamente ci deve essere questo pensiero di dividere oppure fare un corso che dia questa label. I corsi si fanno per imparare degli skill e avere dei tool, ma per svolgere il ruolo di project manager, di construction manager, che può essere anche BIM manager, va benissimo, ma non ci deve essere la divisione. Ecco, quello che io sto vedendo nei giovani è un po' questo. Cioè, poi questa volontà incredibile, che è un po' statifica nell'aria, poi di usare Dynamo in tutte le salse possibili e immaginabili. Va bene, ha creato sicuramente un sacco di valori aggiunti, però allo stesso tempo la concretezza, io quello che dico io, un po' meno Dynamo, un po' più cantiere. Cioè, andiamo un pochettino in più in cantiere a vedere il nostro modello, come procede, e se effettivamente il cantiere sta seguendo il nostro modello. Questo è quello che mi sento dire ai ragazzi, ai giovani, e ritorno alla concretezza del BIM. Mi piace farlo così, cioè, troppi processi digitali, secondo me, creano troppi problemi. Assolutamente d'accordo. Stressare troppo il processo, e lo si fa, chiaramente il processo viene governato anche da Dynamo, secondo me, porta troppo fuori rotta il ruolo concreto del BIM. Ecco, quindi questo è un po' il tema. Bene, quindi avere sempre di fronte il fine e non il mezzo. Quindi rimangono sempre degli strumenti al servizio di un'idea progettuale. Fino, diciamo che per almeno per i prossimi 50 anni il BIM, penso che lo faremo su questo pianeta, poi magari, mai dire mai, però insomma, come dire, cercare sempre di stare in un ambiente che non ci faccia vedere troppo a fantascienza, seppur bella, però quello che dico io ogni tanto la concretezza, bisogna sempre dimostrarla. Bene, ti ringrazio tantissimo, Filippo, di questa chiacchierata. Grazie a te, Andrea. Salif, CEO e founder di Sfray. Ti ringrazio e ti aspetto alla nostra prossima iniziativa. Grazie a voi. Grazie mille, grazie mille a voi. Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.